Innanzitutto per me è stato un onore entrare nella casa del primo cittadino, lo ringrazio di cuore che mi ha subito accolto e soprattutto ha ascoltato i miei grandi dubbi, le mie perplessità e soprattutto io penso che in un momento delicato come sta vivendo in questo momento la mia società, il primo cittadino potrebbe aiutarci a risolvere questo momento di grande impasse. Il Fano Calcio è molto importante per Fano, i tifosi fanesi sono preoccupati, diciamo appunto ai tifosi per quale motivo avete dovuto interrompere l'allenamento a frontone, qual è la vera situazione del Fano Calcio, che cosa succederà? Ma innanzitutto se sono preoccupati i miei tifosi è perché è preoccupato il sottoscritto, io li ringrazio pubblicamente dell'amore, del sostegno, della vicinanza che mi stanno dando tutti i giorni, domenica sono saliti a frontone, una rappresentanza della curva e ripeto se io sono tornato ad allenare, prima ho fatto il calciatore qua, se sono tornato a Fano è perché adoro questa città, adoro i miei tifosi, adoro questa società che ha 117 anni di storia, però penso che in questo momento 117 anni di storia sono a grande rischio. Leggiamo che ci sono delle situazioni abbastanza drammatiche dal punto di vista societario, che cosa possiamo immaginare che succederà? Ma io non mi piace entrare nel merito di cose che non mi competono, è chiaro che sono troppi giorni che leggo solo di rogiti, che leggo solo di compromessi, che si parla solo di passaggio, ma a me e alla squadra chi ci pensa. Noi mancano 20 giorni all'inizio del campionato, ho un gruppo di ragazzi giovani, under bravi, splendidi, ma non è una squadra, non possiamo affrontare un campionato di serie D duro, complicato e soprattutto con questa casacca gloriosa con solo under, rischiamo di fare un naufragio. Quindi quello che è il mio obiettivo oggi è cercare di sensibilizzare ancora di più tutte le persone, tutti gli imprenditori fanesi, tutte le persone che sta a cuore questa società, perché io penso che, ripeto, 117 anni di storia vanno onorati e non umiliati. Grazie.